la fantasia, la tecnica, la velocità e la classe ecco a voi la Versi contro Cassano uno spettacolo nello spettacolo la grande sfida di questo Napoli-Sandoria buon pomeriggio dallo stadio San Paolo ecco l'angolo di Gargano Santa Croce di testa e Napoli sfiora il vantaggio Denis all'anca per Lavezzi la posizione è buona Lavezzi, nera di rigore Lavezzi in mezzo, Mannini il Napoli ricomincia da Mannini Bellucci va a lui dalla bandierina e Scegliezzo che non la prende e il colpo di testa, credo di Campagnaro eh sì di Castaldello Denis, balla recuperata dal Napoli Denis alza la testa trova Lavezzi Lavezzi mette ancora il pallone in mezzo e questo suo tiro cross velenoso viene deviato da Castellazzi Gargano San Marco posizione buona di Cassano no, dice l'assistente gol annullato alla Sandoria la velocità naturale sembrava buona era buona Franco per me sì era in linea del vecchio sulla linea pallone ancora dentro colpo di testa di Franceschini e altro salvataggio sulla linea Mannini l'ha salvato Mazzoli Lavezzi Lavezzi però la conclusione c'è una deviazione Zalaceta appena entrato due a zero Zalaceta beffa la Sandoria Cassano punta Mannini Cassano il suo tiro deviato Bellucci la palla lì Bonazzoli Gliezzo Zalaceta c'è ancora Lavezzi Zalaceta per Lavezzi posizione regolare grande Castellazzi sulla Lavezzi l'Inter resta in testa ma il Napoli resta lì a soffiare sul collo